Io penso che meglio di come sta operando il Ministro Alfano non possa operare. Siamo in campagna elettorale e quindi individuiamo e cataloghiamo queste richieste nella logica suositamente pre-elettorale perché non vedo cosa altro avrebbe potuto fare il Ministro Alfano rispetto a quello che ha fatto e ha fatto bene.